Poi alla fine siamo rotti nuovamente, sono rimasto con Ponzi, l'ho tirata la volata, ho fatto secondo me. L'obiettivo era tirarla a Sagan, no? A Sagan o Ponzi, perché anche Ponzi è molto... Sagan è rimasto dietro quando è partito Ballan. È rimasto nel gruppettino dietro, sì. Sì, sì, va bene. Bene, notazioni, cose? Bene, dai, bene. Iva mi può fare una foto? Iva, redimimi!